Passo, non così tanto, non così tanto, ok tranquillo, prese, mettetemi giù a posto, ok, vai lì ben tranquillo eh, non farlo allontanare, non farlo creare spazio, vai lì, dai più vicino Otto, vai lì, vai libera sulla gamba, la linea Otto, vai bene le presi eh, vieni le presi, piedi lo giudeo, bravo, a nulla gliela scriva, a nulla gliela scriva, ok, guardi mettere i bracci sotto la stella, bravo, braccia la testa, lì, lì vuoi, ok, dobbiamo straccia, lì, buoni di cancio, a nulla di cancio, Tira via la gamba a triestra, Otto. Buono. Ok, sta, ok. Occhio, eh. Lunga la gamba. Abbraccia la testa. Abbraccia la testa, sennò va sotto. Otto. Abbraccia la testa. Sta a salire così, Otto. Su tu devi stare. Su tu, sono due punti. Sì, sì, chiedono lì. Dai, sali. Vedi levarli da qua, sali. Portalo giù. Sali, Otto. Va su, va su. Bravo. Passa dentro. Prima che chiude. Non farlo chiudere. Vienilo giù. Vienilo giù, eh. Vienilo giù. Vienilo giù. Otto. Se tu hai il mio guardio, non farlo di salire, eh. Deve stare sempre tu su. Se sta vicino, abbraccia la testa, così non viene sopra. E che parla? E stai chiuso con le braccia, ok? Stai chiuso con le braccia, eh. Stai chiuso con le braccia, eh. Attica torra, senti. Partola giù, vienilo giù. Porta. Partola giù. IntHerbo, Prim clicking un'intiposto. Vienilo giù. Avizia apporto. Sia chiusa con le braccia, tutte le braccia. O meno. L'intiposto. E l'intiposto. Vienilo giù. Nove 64 existed directly. Occhio, ha preso un vantaggio, eh? Occhio, occhio, eh? Non distratti, l'amore. E impare tu l'amore, Otto. Non passare, eh, Otto. Postura e passa, postura e lavora. Postura, eh? Non far ti tirare giù. Non far ti tirare giù, eh? Non far ti tirare giù, eh? Non far ti tirare giù. Spacca quella presa lì, Otto. Bravo! Spacca quella presa lì, eh? Via quella presa, dipendi, eh? Dipendi, vieni su. Vai su in postura. Bravo! Ok, però lavora, Otto. Se ti tiri su, devi lavorare veloce. Vai, che ti tirati sin piedi. Ti dici l'occhio sotto il culo. Tira che sin piedi o sotto il culo, se no. La moto, vai! La moto, vai libera, ok? Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Possa, vai! Prendi la gamba! Vai dentro! Vai dentro, Otto! Vena! Vena! Sì, c'è l'ha la mezza. C'è l'ha. Vai, sei profondo, Otto! Dai ribalta! Dai ribalta! Dai ribalta! Vai, vai, su! Stai su, Otto! Tirati su, Otto! Libera, vieni le gambe, vieni su! Vieni su! Girati! 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 Prendi le gambe! Guarda! 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 Guattò! Ti prepari, eh? Hai preso il vantaggio! Il vantaggio l'hai preso! Guattò! Ci prepari! Guardi, otto, prenditi bontà, non fatti tirare giù, non fatti tirare giù, via con la presa e tira su in postura, postura anche a quel braccio, comiti stretti, abbracciamici nel corpo, come prima, apri, dai che apri, otto. Via quella presa, via quella presa, su postura, dai lavora, otto, di provare a passare, di provare a passare, dai che apri, dai che apri, entra, otto, entra un po' di mettere nella riva, un po' di mettere nella riva. Non mettere nella riva, non mettere, vai dentro. Sparacca a sinistra, passo a sinistra, passo a sinistra, dico ci sei, abbraccia la testa, abbraccia la testa, abbraccia la testa, abbraccia la testa e stia, di giù. Ok, ok, ok. Dai libera! Dai via quelle gambe, via! Sei veloce! Dai giù! Tensa il bacino! Tensa il bacino! Tensa il bacino! Tensa il bacino e passa! Passa, passa, passa! Passa alto! Passa! 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 La gamba è diritto! Passa, vai sulla testa! Abbraccia la testa! Abbraccia la testa! Stai lì! Otto, stai lì! Tensa! Vai, vai Otto! Vai la schiena! Vai la schiena, Otto! Schiena! Schiena no! Schiena! Schiena! Schiena non passa! Vai Otto! Passa! Schiena, schiena! Vai Otto! Vai lì Otto!